Ciao ragazzi, ecco a voi un nuovo video in questo video vi faccio vedere come utilizzo i glitter diciamo che la prova non è venuta da dio ma comunque vi spiegherò il concetto primario come primo esempio vi faccio vedere con il barattolino dei glitter poi ci sarà l'esempio del gel CC Nails già glitterato essendo il mio base, ovviamente cercate di fare una french o un monocolore, quello che state facendo, delineando bene il tutto io quindi prendo il mio base, non tantissimo prodotto e delineo la french dopodiché la tip o l'unghia la dovete pucciare dentro il barattolino come vedete in questo caso io l'ho pucciato ma manca un angolino quindi lo ripuccio dentro non fate caso se sulla vostra unghia c'è altro materiale perché potete toglierlo come sto facendo io qua con un pennello pulito e del cleaner oppure potete anche mettere in lampada a sigillare che poi se non c'è prodotto al di là dei glitter questi glitter con una spatolina verranno via e questo velocemente è il risultato se no cosa potete fare? potete prendere un barattolino, quello che avete metterci dentro del gel base dopodiché metterci dentro i glitter mescolarli insieme anche qua non troppi glitter o non troppo gel base dovete trovare un attimo voi la consistenza ideale e anche qua prendete il prodotto e fate la french cosa cambia rispetto a quello prima? cambia che è molto più trasparente e per fare un ottimo coprente dovete utilizzare più prodotto infatti io all'inizio facevo questo tipo qua mescolando il gel base con i glitter il problema è che poi quando facevo la french diventava alta e cicciotta e sinceramente non mi piaceva quindi se proprio volete potete provare però vi dico ai suoi lati negativi questa cosa a meno testata su di me poi minimo su qualcun altro piace o qualcun altro riesce meglio di me testata su di me non è stato proprio il massimo dei massimi direi che se dovessi scegliere tra la prima sviluppo e questo avrei scelto sicuramente il primo sviluppo io invece cosa ho fatto? al posto di fare tutto questo sbattimento di inserire il dito nei glitter eccetera 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 ho comprato i glitter da Cici Nails in quanto sono molto ma molto ma molto coprenti quindi con una passata leggera si copre in questo caso che è l'ultimo caso che vi farò vedere appunto utilizzerò anche qua anche se sto stendendo troppo prodotto è solo per farvi vedere utilizzerò un glitter della Cici Nails in questo caso è quello viola più scuro e come vedete anche se c'è troppo prodotto non è più il massimo quello che stavo facendo però per dirvi vedete quanto è molto ma molto ma molto più coprente quindi potete immaginare che con una passata leggera si copre veramente un sacco di più quindi vi ripeto potete utilizzare i glitter mettendo il dito nel barattolino il glitter mescolandole con il gel base oppure ancora meglio comparare i gel glitterati se potete spero che questo video sia stato utile vi sia piaciuto ciao